Torna al successo l'Isernia e in camera la settima sconfitta consecutiva. Invece la Criterrina in una giornata splendida di sole, quasi estiva. In basso Morise la formazione Pentra ritorna in marcia verso le zone alte della classifica. Lo fa passando con il minimo scarto sul campo del Madonna Grande. Vittoria conseguita grazie al gol nella ripresa al 32esimo firmato da Sandro Buonanno. Pronti via, il confronto è apertissimo e ottimamente diretto dall'arbitro Agostino De Santes. Arriva dalla sezione di campo basso. Ovviamente l'Isernia fa la partita, dodicesimo subito per Buonanno. Il primo tentativo controlla bene con il sinistro e spara sul corpo di un Melfi superlativo in campo. Ventesimo si vede anche la Criterrina da Alessandro in velocità. Pesca la corrente Grazia Plena che carica il destro in corsa. La palla scheggiata termina abbondantemente sul fondo. Ancora Isernia che fa la partita ma soffre nel primo tempo. La squadra Prenta ci prova ancora Buonanno che si delegue Navar in aria. Prova ad incrociare con il sinistro. Sfera sul fondo ancora Prenta il 28esimo. Mingione illumina con questo lungo lancio in profondità. Scatta alla meno peggio Grazzo che riesce a mettere subito. In mezzo un pallone arriva in corsa con il piattone. Felice De Vizia palla oltre la traversa abbondantemente alta. 38esimo ancora Prenta in avanti con questo lungo lancio in profondità. Con Buonanno prova a scappar via il suo diretto controllore. Provala il siluro in corsa con il sinistro. Palla che fa la barba al palo e si spegne sul fondo. Finale di tempo la punizione disegnata da Menko arriva in aria di rigore a Aurelio. Manca l'appuntamento con il gol di un soffio. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Un'isernia sospinta rivoluzionata da mister Pierluigi De Bellis e sospinta anche da un grande Sabatino in campo. Minuto numero 19 Panico ci prova a entra in aria di rigore in corsa. La sua conclusione che Melfi riesce a deviare in qualche modo con il piede. Poi è Carbone a sparare abbondantemente sul fondo. Un giro di lancette. Mingione ci prova in profondità con il pallone buono per il piattone in corsa da parte di Carbone. Melfi si salva ancora la grande e poi è Vitone che spara incredibilmente sul fondo. 23esimo sono ancora i pentri da Laurelli. Questo lungo lancio in profondità. Pallone assistito da Buonanno che si gira bene in aria di rigore. Scarica con il sinistro abbondantemente sul fondo. Minuto numero 25 da lunga rimessa di Sabatino. Buonanno apre sull'outi destra per Mingione. Il cross perfetto che viene raccorto da Carbone. È scaricato in rete però il pallone nel cross praticamente ha avarcato la linea bianca. Il gol viene giustamente annullato ma la rete è nell'aria. Minuto numero 32 è Panico che assiste questo pallone per Mingione che entra in aria di rigore. Con il piattone va a servire Buonanno che deve soltanto accompagnare in rete. Qua mea culpa della retroguardia della Criterlina che ha retto bene il confronto per quasi 80 minuti. Poi è crollata con il trio Panico. Panico-Mingione-Buonanno che è riuscito a scaricare in rete il gol del vantaggio. Quello che praticamente va a regalare alla formazione Pentra i tre punti. Ancora Pentra in avanti nella fase finale della gara. Minuto numero 36 sugli sviluppi di un angolo. Il piattone in corsa da parte di Carbone con la palla di un soffio sul fondo. Minuti finali siamo in pieno recupero. Panico entra in aria di rigore. Il pallonetto con Melfi che gli chiude lo specchio della porta. Vince Lisernia che spugna il Madonna Grande per 1-0. Grazie al gol firmato da Sandro Buonanno.